Siamo pronti? Siamo pronti a partire Se può superare, sennò moriamo Oh, c'è un cagnolino Il perro del villaggio E poi ci sta il castello Non si vede il castello Ecco, c'è il villaggetto Medievalleggio Ecco la casa, castagno di 300 anni, bombardato dalla guerra Bellissimo Perché si chiama Alfa Romeo? Non lo so, io l'ho dato così a caso Ah, tre C'è un mostro dentro Le cinque? Ecco, sono alle cinque Ogni quanto lo fanno? Alle otto del mattino Mezzanotte Mezzagiorno Mezzogiorno E alle cinque del pomeriggio Perché? È così Perché così non fanno tardi E alle cinque del mattino E alle cinque del mattino Ma, 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 ma Hate you Grazie a tutti Grazie a tutti Fatti vedere che fai l'igo Saluta il vlog Andiamo Questo è il castello Mettiti tipo là La ringhiera Ciao Ciao Oh Dio Ciao Buongiorno Sono andando via Ultimo giorno Buongiorno 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 Grazie a tutti Raffreddore Bene Come è andata questa vacanza Molto bella Spero se non pleanno Ci c'è a bomba Stanno registrando Guarda sta rompe tutto Siamo nella Sequoia National Park La mia Buongiorno 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 Buongiorno